ciao ragazzi salve a tutti e benvenuti ad autopolis oggi vi propongo un'altra puntata di moto gp notizie luglio ed inizio come sempre col calendario 2020 perché oggi è arrivata la conferma ufficiale che non ci sarà un gran premio degli stati uniti quest'anno situazione che andrà a compromettere quasi sicuramente il gran premio dell'argentina che per ora ha qualche remota possibilità di disputarsi alla fine di luglio sapremo cosa accadrà con le altre tre gare fuori dall'europa oltre a questo vi dico che espeletta ammette che il calendario 2021 potrebbe essere compromesso vi propongo le dichiarazioni di carmelo la situazione nel mondo dal prossimo anno non sarà più la stessa di prima non sono in grado di dire che il calendario del 2021 sarà quello che abbiamo pianificato prima del coronavirus abbiamo contratti per le rotazioni alcuni firmati ed altri concordati ma non so se potremo disputare 22 gran premi dovremo adattarci alle circostanze proprio come abbiamo fatto quest'anno dipenderà anche dal fatto che si trovi il bacino contro il coronavirus o meno per ultimo vi lascio una chicca perché espeletta praticamente conferma come millesimo gran premio della ferrari in formula 1 il mugello capisco che la formula 1 ci andrà al mugello per vari motivi in primo luogo perché è un'occasione unica per la ferrari per correre sul suo circuito e in secondo luogo perché lo faranno coincidere con il loro millesimo gran premio ho già parlato con la ferrari perché loro erano un po preoccupati che non andassimo ma ho detto loro che non c'era nessun problema comprendiamo perfettamente la situazione beh ragazzi allora come sempre vi lascio in schermo il calendario 2020 e l'orario della prima gara a jerez che sarà trasmessa live solo su pay tv differita invece su tv 8 alle ore 18 beh dopo mi sposto sulle squadre e vi dico che oltre alla suzuki l'aprilia pare stia considerando una squadra satellite per il 2021 attenzione a questo vi propongo le dichiarazioni di alex spargarò che ha stato lui a dire questa cosa abbiamo bisogno di un team satellite davanti a noi abbiamo l'esperienza della ktm che grazie al team tectra ha aumentato il suo livello l'idea di massimo rivola e di usarla come squadra junior per portare i piloti della moto 2 nella massima categoria in modo che possano imparare a conoscere la moto gp e passare alla squadra ufficiale ma per me il primo passo in questa direzione è rendere la rs gp una moto molto competitiva e il mio obiettivo è chiaro e poi avendo un team satellite ci sono più possibilità per provare le componenti della moto attenzione a queste dichiarazioni ragazzi perché i conti non tornano e se queste dichiarazioni sono veritiere dovremo vedere una o addirittura due squadre nuove in moto gp ora mi sposto sul mercato piloti così capite meglio cosa può succedere perché per il 2021 vedremo una griglia molto diversa allora inizio col declassamento di alex marquez a lcr la struttura di lucio cechinello a confermarlo ancora un'altra volta carmelo e speletta a me l'accordo fra paolo spargarò e onda non mi sorprende capisco che possa lasciare sorpreso qualcuno fuori dal paddock ma io so com'è andata e da dove viene quindi non mi sorprendo in generale nessuna delle cose fatte dalle squadre mi lasciano sorpreso perché sono più informato di quanto non lo sia la gente so per quale motivo onda prende questa decisione quindi lo sapranno anche loro ma non mi intrometto se mi chiedessero cosa ne penso non risponderei ma non sono affatto sorpreso crutch low mi piacerebbe se cal restasse con noi per molto tempo ancora e come abbiamo già fatto molte altre volte lo aiuteremo a trovare un posto beh queste sono state le dichiarazioni di e speletta che tra l'altro conferma come per crutch low non ci sia più spazio dentro della struttura onda lcr e dentro della famiglia onda in generale vi dico che è speletta sta cercando per cal una moto perché cal è molto importante per la moto gp per essere ad oggi l'unico pilota britannico rimasto in griglia per lui e speletta punta al sedile vuoto lasciato in aprilia da andrea jannone il mio tempo con la onda è stato fantastico abbiamo ottenuto diversi soddisfazioni insieme ma tutte le cose belle devono finire ad un certo punto sviluppare la rsgp con alex spargarò potrebbe essere molto divertente volevo ritirarmi ma fortunatamente i costruttori non vogliono sono anche fortunato ad avere un buon rapporto con carmelo speletta per ragazzi dopo ritorno sulla questione alex marquez per dirvi che è molto strano che nessuna delle parti coinvolte abbia parlato per ora regna solo il silenzio ma la situazione dovrebbe cambiare a breve perché dovremo avere conferma del passaggio di paolo spargarò ad hrc repsol prima della gara di jerez li vedremo finalmente come reagiranno i marches e dopo mi concentro su valentino rossi petronas yamaha perché pare che ormai manca solo la firma contratto di un anno con opzione per il 2022 con morbidelli come compagno di squadra bene valentino per ultimo jorge lorenzo versus andrea dovizioso per i sedili ducati 2021 perché almeno secondo il padre di jorge lorenzo ciccio lorenzo il suo figlio ha delle ottime possibilità di ritornare in rosso il prossimo anno niente certo al momento ma stanno negoziando perché so che stanno negoziando e dove c'è fumo ci deve essere del fuoco e questo quello che ci dice ciccio lorenzo se accetta la sfida e decide di affrontarla penso che potrebbe tornare perché è molto testardo jorge ha dovuto lasciare la onda da sconfitto e se potesse tornare a vincere una gara potrebbe poi decidere di ritirarsi con la coscienza pulita credo che molto sia legato al suo possibile ritorno beh insomma queste sono le parole del padre di jorge lorenzo ora vi propongo le dichiarazioni di batistella il manager di andrea dovizioso anno sabbatico è un'opzione che stiamo tenendo in considerazione se le condizioni che noi riteniamo giuste non dovessero essere soddisfatte andrea preferirà non continuare ciò non vuol dire che lui sta pensando al ritiro si sente forte e sta bene e nella sua forma migliore e non vuole molare è anche vero però che se non puoi scegliere un progetto interessante per te e il tuo futuro sei anche disposto ad attendere che questo arrivi quindi lui non vuole ritirarsi e semplicemente nella condizione di non avere nell'immediato una squadra con un progetto su cui puntare beh situazione complicata questo principalmente per dovi che rischia di finire a piede vediamo come andrà a finire questa vicenda ma in un periodo come questo sarebbe dura dire di no ad un jorge lorenzo disposto a correre con un ingaggio molto ma molto ridotto quindi vediamo come andrà a finire di dovi vi propongo una buona notizia perché dove non dovrebbe saltare nemmeno una gara per questa frattura alla clavicola quindi buone notizie per dovi almeno su questo aspetto vi dico da quanto detto da guidotti team principal del pramac che in caso di dover essere rimpiazzato dovizioso l'opzione numero uno per il trimpiazzo è sempre pirro ma lui non ha escluso la possibilità di utilizzare miller il suo pilota per ultimo guidotti ha detto la sua in quanto riguarda il rinnovo di dovi quando certi amori finiscono quasi sempre le responsabilità sono reciproche i mancati chiarimenti a volte portano a questo anche se spero in un accordo utile per entrambi le parti ho sentito della possibilità di un anno sabatico per dovi penso sia rischioso anche se la storia insegna che le chiamate in corso a volte sono più interessanti dei contratti d'inizio stagione beh ragazzi dopo per chiudere vi propongo le notizie veloci ed inizio con un paragone tra la moto gp e la superbike perché oggi nei test super bikes che si fanno a barcellona jonathan ria ha segnato un tempo di 1 44 ovvero un tempo più veloce del giro veloce di mar marquez in gara nel 2019 ma qui ci sta un po l'inganno l'ha fatto questo tempo con le mescole di qualifica che in moto gp non esistono quindi per ora il divario cronometrico continua ad esistere dopo fabio quartararo perché sembra sia stato proprio lui uno dei due piloti chiamati dalla film per allenamenti illegali il messo illegale in questione sarebbe una r1m modificata ragazzi come sempre io vi ringrazio per aver visto il mio video vi auguro a tutti una bellissima giornata se vi è piaciuto il video date like iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima settimana con altre notizie ciao ciao saluto a tutti